Un video messaggio di 25 minuti del professor Alberto Quadrocurzio per ripercorrere 25 anni di attività della società economica valteinese da lui fondata nel 93. Così si è aperto il convegno sull'economia circolare svoltosi in camera di commercio a Sondrio. Economista di fama mondiale, tiranese e cittadino del mondo, Quadrocurzio ha messo in guardia sui rischi di declino per le aree montane. Servono progetti di lungo periodo. La domanda che si pone al professor Quadrocurzio è che si è posta fin dall'inizio SEV. Vogliamo essere un territorio alpino, fiero delle proprie origini e consapevole del proprio futuro o vogliamo ridurci a essere periferia di un territorio metropolitano? La questione è ancora aperta e oggi è affidata alle nostre mani. L'economia circolare è stata messa sotto la lente dai docenti universitari Roberto Zoboli, Stefano Turri e Dezio Giuriani, da Maria Chiara Cattaneo, presidente del commentato scientifico SEV. Vuol dire evitare di pensare che le risorse siano infinite ma essere consapevoli di questo anche all'insegna dei problemi che pone il cambiamento climatico i cui effetti ormai sono sotto gli occhi di tutti. È importante ragionare di economia circolare anche nei territori alpini e anche in montagna perché apre delle prospettive interessanti di utilizzo più efficace e più efficiente delle risorse. Trasformare lo scarto da problema risorsa è la sfida del futuro. A2A ha sostanzialmente focalizzato il piano industriale e anche il proprio piano di sostenibilità proprio sull'economia circolare. Il cambio di prospettiva che c'è stato negli ultimi due anni è quello di indirizzare molto gli investimenti sugli impianti di trattamento dei rifiuti per recupero di materia. È stato proprio pochi giorni fa inaugurato a Cavagnà un impianto per il trattamento della plastica. Far uscire il problema del siero da un problema di scarto senza valore a una risorsa e attraverso un'attività di concentrazione della sostanza secca peraltro pregiata che è presente all'interno del siero. Il progetto LNG consiste nella sostituzione del carburante per i veicoli pesanti, passare quindi dal gasolio al metano e l'obiettivo finale, visto che è possibile produrre il bio LNG, quindi utilizzare un carburante non estratto ma ricavato direttamente dai rifiuti. Un vecchio frigor diciamo che si trasforma in, faccio una media insomma, in 17 chili di acciaio, 6 chili di plastica, 1300 grammi di alluminio, 300 grammi di rame.